Spesso, sta andando! Adesso come va a andare? Devi fare così? Non mai! Non riesco, eh! Non riesco! Eh? Non riesco! Non riesco! Saluta la telecamera! Allora, la traga non me l'ha di qua! No! Dai, io più o meno! Vai di qua! Segue qua! Ma lui dai sono indietro! Ma segue questa! Poi che vai qui giù! Dai, vai di qua! Vai, vai! Di qua, sinistra! Va bene! Vai! Vai! Non riesco! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.